Marta, volavi oggi, imprendibile? Sì, è andato abbastanza bene, la crona ha fatto prima e dopo in le mance ha partito prima e la prima mance ha andato, l'uscita è andato bene, però ha fatto prima e dopo la seconda e l'uscita è andato bene e è andato. E non credi che possano raggiungerti domani, pensi che gli altri riusciranno a raggiungere il tuo ritmo? Oggi sembravi proprio imprendibile. Sì, penso che c'è tre o quattro pilota che andranno forte, stanno andando forte questa settimana e può essere che lucemo domani. La pista ti piace? Una pista che ti piace particolarmente? Ci sei già stata? Sì, è stata l'anno scorso, però non è una pista che mi piace molto, però va bene. Per fortuna, perché se no... Chi è che ti fa più paura per domani? Sì, però per il campionato, come no, lui non ha fatto le altre due gare. Penso che è meglio, sì. Tu stai pensando al campionato? Sì, ma noi vogliamo iniziare questa gara. Questa gara? Sì. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao.